Beato quel servo Il titolo è una citazione da Francesco, San Francesco La mortificazione del corpo Dice, ci sono molti che quando peccano o ricevono un torto Spesso incolpano il nemico o il prossimo Cioè, reprei Beato quel servo Una citazione in titolo da San Francesco Nel capitoletto La mortificazione del corpo Pagina 159 Ci sono molti che quando peccano o ricevono un torto Spesso incolpano il nemico o il prossimo Ma non è così Poiché ognuno ha in suo potere il nemico Cioè, il corpo A causa del quale pecca Perciò, beato quel servo Che avrà sempre tenuto prigioniero un tale nemico Consegnato il suo potere E sapientemente si difenderà da lui Poiché Finché farà questo Nessun altro nemico visibile O invisibile Gli potrà nuocere Ci sono altri elementi che non abbiamo fatto intervenire qui nell'altura E dove cede l'uomo? Dinnanzi al suo corpo mortale Senza gloria Qual è l'uomo che soccombe Dal suo corpo come nemico L'uomo eroticus Così comincia La regola di San Francesco Regola non bollata Dei 1221 I frati Devono vivere In castità È la regola Diciamo Che sostende la magia E l'ipnosi Le due facce dell'erotismo E quello che almeno da Cartesio Si chiama soggetto È una metafora Dell'uomo eroticus Dell'androgeno Del ipocheimenon L'uomo sottomesso L'uomo schiavo E anche La sua Altra faccia Nella circolarità L'uomo messo sopra O sopramesso Il padrone Perciò Beato quel servo Beato è l'uno Che si divide da sé E non l'uno Che si divide in due Il servo Non è lo schiavo Si attiene Al servizio Della parola Non della parola Del padrone Non è il suo Presunto potere Il signore Nell'angelo E la logica La dissidenza Il numero Di conscio Non qualcuno Neanche di divino Il divino È senza Dio Come abbiamo letto Nel caso di Nice Perciò Beato quel servo Che avrà sempre Tenuto prisioniero Un tale nemico Francesco usa In modo paradossale La logica Del padrone E dello schiavo Che mette In discussione E anche Più che la logica La politica Dell'amico nemico In questo caso Il nemico Non è l'altro Non è una figura Impossibile dell'altro Il nemico È Il corpo Il servo Si fa padrone Del prisioniero Del nemico Del corpo Il corpo prisioniero Della sua anima Non è ancora La combinazione Di corpo E scena E comunque Il servo È beato E non padrone Beato quel servo I padroni Non sono beati Ma impi E il nemico Non è assoluto Ma Un tale nemico E si tratta Di fantasmatiche Ossia Di tentativi Impossibili Di edificare Una copia Di sostituzione Della vita Originaria Per paura Per non rischiare Il nemico È consegnato Al potere Del servo Beato L'immortale E incorrotto Servo Beato Che Sapientemente Si difenderà Del nemico Che potrebbe Evadere Servo Che non è Povero di sapienza Qualunque Essa sia Forse Il sapere Come effetto E non Come causa Eppure Non è Il caso Di difendersi Dal nemico E nemmeno Del corpo Difendersi Dal nemico Lo erige A rappresentazione Perenne Dell'altro Finché Il servo Beato Farà Questo Nessun altro Nemico Visibile O visibile Gli potranno Ossere Francesco Non fa La fine Di Paolo Francesco Non cerca Il nemico Che forse Per Paolo Era Roma C'è chi ha scritto Aveva i cannoni Puntati su Roma Come altri Hanno avuto I cannoni Puntati Su Paolo Anche Egel Egel Senza Paolo Non sarebbe esistito La questione Non è Filosofica O teologica Ma pragmatica Riguarda Il fare Il servo Né divino Né diabolico Ma beato Facendo Nessun altro Nemico Visibile O invisibile Gli potrà Nuoscere Facendo E che Legia Pingalo Gli dei Morbide Formi Non li tangono In nulla Assomigliano Agli umani Il fare Non L'affacendarsi Instaura Il dispositivo Immunitario Dispositivo Intellettuale Nemico Visibile E invisibile Il nemico Che non può Nuoscere Che nemico è? Già è in discussione Tale è la Teorematica Di Francesco La Chiesa Non scomunica Francesco Come invece Aveva fatto Con Valdo Nel 1184 Forse La concordia Fra le discordanze Eretiche Si esercita Con Valdo E Francesco Questa è la Bilancia Burocratica Della Chiesa Quindi Servo Della parola Non servo Di chi Ne cerca La padronanza E nemmeno Servo In quanto Posseduto Della parola In quanto schiavo Servo Dei dispositivi Non per fare Servo Del Del Tempo Piuttosto Seguasso Del Tempo Della parola Della parola Della parola Della parola Della parola Della parola Della parola